E' stato presentato nel Palazzo della Provincia il volume Comuni della provincia di Vercelli, curato dal Consiglio regionale. La pubblicazione raccoglie non solo dati tecnici, ma anche cenni sulla storia, sui personaggi e sulle tradizioni che caratterizzano i singoli comuni. Si completa così anche la collana online dedicata. Con la presentazione dei comuni della provincia di Vercelli si conclude il ciclo di presentazioni dei comuni del Piemonte, che è una pubblicazione curata dal Consiglio regionale, della quale siamo particolarmente orgogliosi perché ci consente di rappresentare quella che è una ricchezza di questa regione, dei nostri territori, che è appunto il Comune, come ente e come entità portatrice di interessi, di valori, che sono al centro della nostra esperienza amministrativa. I comuni costituiscono un patrimonio irrinunciabile per la stessa provincia? Certo, noi abbiamo ben 86 comuni, una provincia apparentemente piccola da un punto di vista demografico, ma molto ricca in termini di numero di comuni e molto estesa da un punto di vista geografico. È una parte significativa del nostro Piemonte, un Piemonte fatto da tantissimi comuni che non devono essere massacrati, come purtroppo spesso o mai a livello nazionale si parla anche di ridurre il numero di comuni. In realtà sono piccole comunità importanti per il nostro territorio perché sono quelle che ancora solidificano le nostre periferie, che devono essere salvaguardate, valorizzate a partire proprio dai tanti comuni che ancora oggi presidano il nostro territorio regionale.